Sergio Silanos è un figlio d'arte, io sono già la terza generazione in famiglia che si occupa di di capelli, di tagli e così via. La passione comunque continua con l'arte intesa nei quadri, quadri in acrilico, lavori fatti con lo scottex, lavori fatti a china, insomma è un mondo molto particolare per me. La cosa è una passione innata da tantissimo tempo che si è sviluppata solamente negli ultimi vent'anni, è una passione notevole perché l'impegno c'è e devo dire che mi supporta anche la famiglia perché insomma mia moglie e i miei figli hanno una pazienza infinita e per questo li devo ringraziare anche loro. I miei quadri nascono da stati d'animo, stati d'animo che per un attimo devono essere impressi o in una tela o con la penna, con dei disegni, con qualsiasi cosa che in quel momento mi trovo trovo in mano. E' una cosa veramente notevole perché dà una sensazione fantastica. Poi il fatto di condividerli con tutti è un fatto che è veramente bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.